La perdita di Dio La quarta pena è il fuoco che penetra l'anima, ma non la nienta. È un fuoco puramente spirituale, acceso dall'ira di Dio. La quinta pena è l'oscurità continua, un orribile soffocante fetore. E benché sia buio, i demoni e le anime dannate vi vedono fra di loro e vedono tutto il male degli altri e il proprio. La sesta pena è la compagnia continua di Satana. La settima pena è la tremenda disperazione, l'odio di Dio, le imprecazioni, le maledizioni, le bestemmie. Queste, scrive Sor Faustina, sono le pene che tutti i dannati soffrono insieme. Ma questa non è la fine dei tormenti. Ci sono tormenti particolari per le varie anime che sono i tormenti dei sensi. Ogni anima, con quello che ha peccato, viene tormentata in maniera tremenda e indescrivibile. Ci sono orribili caverne, voragini, titormenti, dove ogni supplizio si differenzia dall'altro. Sarei morta alla vista di quelle orribili torture se non mi avesse sostenuta l'onnipotenza di Dio. Il peccatore sappia che col senso col quale pecca era torturato per tutta l'eternità. Scrivo questo per ordine di Dio, affinché nessun'anima si giustifichi dicendo che l'inferno non c'è, oppure che nessuno c'è mai stato e nessuno sa come sia. Io, suor Faustina, per ordine di Dio sono stata negli abissi dell'inferno, allo scopo di raccontarlo alle anime e testimoniare che l'inferno c'è. Ho l'ordine da Dio di lasciarlo per iscritto. I demoni hanno dimostrato un grande odio contro di me, ma per ordine di Dio hanno dovuto ubbidirmi. Quello che ho scritto è una debole ombra delle cose che ho visto, una cosa ho notato, e cioè che la maggior parte delle anime che ci sono, sono anime che non credevano che ci fosse l'inferno. Le anime la soffrono così tremendamente, per questo prego con maggior fervore per la conversione dei peccatori ed invoco incessantemente la misericordia di Dio per loro.